secondo le statistiche di youtube solo l'un per cento di chi guarda i miei video iscritto al canale mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora grazie la posto ottimo quindi c'è gente che già è arrivata però ormai aspettiamo si si 22 39 minuti potete entrare signore buonasera direttore ieri l'ho vista in dolce compagnia direttore prego prego si è ragazzo deve avere un indumento rosso io le mutande vado a cambiare una maglietta del pantalone rosso ma si vedono le mutande e non mi dispiace la vita cambia con me andiamo in ufficio in ufficio controllate bene ma io forse io lo cadendo vedi vedi signorina vedi noi che dobbiamo fare il direttore ha ricevuto minacce di morte infatti oggi questa sera sono andata a parlare con il grado e qua c'è la guerra fuori e qui mi vengono a ravire qui mi vogliono sparare ecco un'altra volta mi stai chiamando che cazzo vuoi ma non parlare con il cazzo che vuoi fammi capire ti do 10 minuti di tempo ma che 10 minuti tempo che stai ricevendo e fammi saltare il casino voglio vedere vai a te con tutti i dipendenti ma stai zitto vedi mi minaccio ti fa saltare il casino ma sta lo sceriffo giù a posto ma ci vado a parlare ma non c'è la miseria rendete conto sì ma ci ho parlato con nata ma che uno dei gradi intersurti ma che cazzo si succede oggi ma che sono queste cose ma che cazzo dice ma che schifo è chi stanno a capire chi cazzo so su quattro sciema allora se loro sono lasciati a parte se cagano il cazzo fuori è guerra per loro ma che cazzo fuori è piscina mind ma comunque parliamo con il suo città che vanno a punti io non ho il modo di contattarlo vabbè la metteremo in contatto con il signore governatore solo lui ti potrà salvare io lo spero veramente e vivamente anche perché insomma questa sera c'è stata proprio un'aria puzzolente troppe domande domani vediamo ma voi non andate lì stasera allo sgordo hai regalato anche dei vestiti direttore? no no ma giusto l'appoggio sul cruscotto no mamma ma grazie gennaro giuro che glieli restituirò no 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 non ne ho bisogno ma è sicuro? se lo vado a mettere in banca grazie veramente grazie mille io se posso aiutare mi fa piacere aiutare anche le altre attività che succede? domani domani ci hanno dato delle cose strane da fare insomma questi non lo so lì c'è la pena di morte questi non ci stanno niente a ammazzarci mh ho capito io ho bisogno di protezione quando meno per i miei figli la mia vita può non può anche finire qui ma i miei figli ma tutti i suoi nipoti? ai miei nipoti ovviamente non capo con te ok non c'è problema se vuoi stare ecco eh devo andare ci vediamo domani sempre se ti fa piacere va bene certo che mi fa piacere aspetterò la tua chiamata ok magari mentre che vado a vendere il latte se riusciamo ci possiamo vedere oggi ero a Paleto a vendere il latte a quelli che che vanno a a fare il pollo ecco vado sempre anche lì mh passo anche al casino ok che mi serve anche a me un po' di latte fresco va bene allora me ne strizzerò di più domani mattina ok faccio farò da solo vado che è meglio ok va bene è la seduta tacche con la k tacche tacche spazio perché è inutile entrano sempre sai com'è casino ma chi è eh questi qua non penso se stanno amareciando andiamo andiamo questi è un qualcosa capito no? si si andiamo che è meglio fidati ci sono sempre l'ombra il cazzo un po' stanno proprio c'è c'è lutto cazzo compa c'è lutto cazzo ma non mezzo chi ne lupi anzi potete cercare mi pulite piglia bui mamma mi manco un tempo già c'è scassata la macchina porco dio ma non è possibile porca madonna vai giù ma porco gesù mi dissocio ma che cazzo già si è rotta la macchina già oh ma se cazzo c'è il live in questa pubblicità eh come va eh scusate che cosa porco ma che cazzo è successo ma hai descassato cazzo cioè guarda che stanno a cazzo 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 boh ma fanno cacchi di morto cacco che rp è così a mamma ma che ma che boh ma ma cazzo 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 immagino certo è un cazzo vuole un'aiuto signora concetto io glielo do non è un problema beh io insomma le volevo dire questo io le posso fare anche un prestito non è un problema io signor che no Quanto ordinao Ah, ok, quindi non puoi neanche dormire qua di nascosto? Non lo so, potrei rischiare. Non vorrei litigare con quelli. Mi mettono ferro e fuoco al casino. Lo sai, no? Ok. Ci vediamo. Ciao, Chanel. Vabbè, ci organizziamo per la prossima volta, ti accompagno alla porta, ok? No, non c'è bisogno. Riposati. Allora, buonanotte. Buonanotte. Vai, Soleimani, ciao! Buonanotte. 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 ah se punto stai io gioco le schedine 1x2 no sì così si gioca ma tu perché non metti le schedine over 1 e mezzo di gol tutti ce le si vuole mettere c'è qualche conoscenza tu io se io voglio mettere scommessa delle partite senti che ho pensato chi le piace il calcio come me non so se a voi piace il calcio veni qui quando c'è giornata e gioca a schedina direttore franco io ho uscito il peser e sarei preoccupato io lo sto sfruttando oh che c'è una cosa chiamiamo tutti Antonio 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 chiamo Antonio chiamo Antonio 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 posto per andare per andare per chi per chi per andare sceriffi ma che cazzo dici ma casinò ci hanno conquistato il casino porca puttana ma chiamati Lenny ma sono quelli degli sceriffi ma come sono quelli degli sceriffi che cazzo ne sono ma sei chiamati Lenny ma chiamato chiama chiamano lo sto chiamando si no te l'ha detto Heliotech te l'ha detto Heliotech eh ma loro si chiama Heliotech a me esce Heliotech nella lista vai giù però ragazzi ieri ieri Gennaro ha detto mettete i vostri nomi sull'applicativo l'ha detto eh ma Heliotech sotto l'applicativo si chiama Heliotech e si chiama pure in ciò che Heliotech e lui ha detto che si chiama un altro nome cioè vero vero mannaccia tanti ma come è possibile va giù chi sta avviato un documento penato tu di chi aspetta allora non sta qui le prima il ciò cazzo braccia da dietro te oddio ma che cazzo troppo forte io l'ho buttato troppo forte e porca butta ahhh ahhh